I dati intestatario identificano il proprietario del dominio, cioè la persona fisica o giuridica, a cui è assegnato. Per cambiare l'intestatario di un dominio è necessario un cambio proprietà, mentre i dati di contatto, cioè indirizzo, CAP, comune e provincia di residenza, telefono e fax possono essere aggiornati online in completa autonomia. Per modificare questi dati puoi accedere all'area clienti managehosting.aruba.it con il tuo username del tipo 123456-aruba.it e la password. Una volta nel pannello, se ne hai più di uno, individua il dominio per il quale vuoi aggiornare i dati e clicca il tasto Gestisci. Dal menu a tendina, scegli Dati intestatario. A questo punto, solo se i dati dell'intestatario non coincidono con quelli dello username chiocciolaruba.it, il pannello chiede l'inserimento del codice di autorizzazione del dominio. Se ti occorrono informazioni su come reperire il codice, c'è il link alla guida dedicata. Modifica ora i dati non corretti. Prima di cliccare, ricorda di salvare le modifiche. Leggi le informazioni dell'avviso che precede il pulsante e, nel caso il dominio abbia un'estensione che prevede il Transfer Lock, spunta la casella dedicata se non vuoi che il trasferimento del dominio sia bloccato per due mesi da questa modifica.